Si è svolta a Bari la conferenza sullo stato di salute dell'Italia durante la quale sono stati presentati i dati sull'efficacia del sistema sanitario italiano paragonato a quello di altri 26 stati europei. Una prima edizione che poi farà tappa a Delsinchi, Stoccolma e Atene. Sentiamo. Bari, capitale della sanità italiana. Si è svolto in Puglia, infatti, l'evento organizzato dall'Ares in collaborazione con Commissione Europea, Ocse e Osservatorio Europeo sui sistemi sanitari e sulle politiche sanitarie. Una conferenza pubblica in cui sono stati presentati i risultati del report 2018-2019 sull'efficacia ed efficienza del sistema sanitario italiano paragonato a quello di 26 stati membri dell'Unione Europea. Una prima edizione, le altre si svolgeranno a Helsinki, Stoccolma e Atene, di cui Bari è stata la tappa italiana. Una magnifica manifestazione, quella di oggi, in cui abbiamo potuto, diciamo, classificare i progressi grandissimi che il sistema sanitario pugliese ha fatto in questi anni. Nel benchmarking si dice, ma in italiano si dice, confronto con le altre regioni europee e con l'Unione Europea. Quindi devo dire che Giovanni Gorgoni e l'Agenzia regionale, l'Ares, hanno veramente dato il segno di un cambio di passo anche, devo dire, della stima che il sistema sanitario pugliese sta ottenendo in tutto il mondo, in particolare nell'Unione Europea. Noi ci auguriamo di poter proseguire questa strada di netto miglioramento nei prossimi anni, perché dopo tante difficoltà nel ventennio passato, finalmente la sanità pugliese si sta muovendo e si sta muovendo nella direzione giusta e questo viene riconosciuto non solo dalla crescita nei livelli essenziali di assistenza, ma dalla crescita di stima generale nei nostri confronti. Dalla lettura del rapporto l'Italia si dimostra un paese con un sistema sanitario tra i più efficaci. La Puglia, nello specifico, risulta una regione che offre stili di vita sani, dove tuttavia i livelli di povertà e di inquinamento impattano particolarmente sullo stato di salute delle persone. A preoccupare inoltre sono i giovani. Questa è la prima tappa, è la tappa italiana, quindi la rappresentazione del rapporto con il focus Italia, non quella pugliese e noi abbiamo approfittato anche per raggiungerci qualcosa di nostro, quindi per fare il punto su uno degli aspetti del rapporto, ossia quello delle disuguaglianze di salute che riguardano un pochino l'Italia. L'Italia dal rapporto si dimostra come un paese con un sistema sanitario tra i più efficaci in termini di morti prevenibili e morti trattabili, una buona assistenza primaria, capacità di trattare i tumori sopra la media europea, i tassi di sopravvivenza sono fra i più alti, poi ci sono alcune note dolenti, la prima è la preoccupazione prevalentemente sul futuro, buona parte dei decessi sono legati all'abuso di alcol, di fumo, cattiva alimentazione e sidi di vita, una cosa che sapevamo già e la preoccupazione in particolare per le nuove generazioni.